Stravince la lista ispirata dal Consorzio Hauser-Bientina alle elezioni per l'Assemblea del Consorzio Toscana Nord, il nuovo soggetto che si occuperà della sicurezza idrogeologica nelle province di Lucca e Massacarrara. La lista Ambiente, Sicurezza e Sviluppo, guidata da Ismaele Ridolfi, che è quindi destinato a diventare presidente del Consorzio, si è infatti imposta in tutte e tre le sezioni elettorali, portando in Consiglio 12 rappresentanti. I restanti tre vanno alla lista Sicurezza Idraulica, Ambiente, Equità e Partecipazione, ispirata dal Consorzio Versilia Massaciuccoli e capitanata da Fortunato Angelini. Nessun consigliere eletto, invece, per la lista Consorzio 5 Stelle. Ma andiamo a vedere chi sono i nuovi consiglieri. Per la lista Ambiente, Sicurezza e Sviluppo, Ismaele Ridolfi, Francesco Grossi, Nicola Boggi, Laura Elda Bertoncini, Giovanni Matteo Tori, Alessia Santucci, Rolando Bellandi, Andrea Miglioli, Guido Bertacca, Giuseppe Bigongiari, Silvia Maria Cormio e Corrado Guidi. Per la lista Sicurezza Idraulica, Ambiente, Equità e Partecipazione, Fortunato Angelini, Rolando Guidi e Pietro Casali. Come primo atto del proprio mandato, Ridolfi ha annunciato che incontrerà i residenti di Massa e Gallicano, i centri che più di altri hanno subito danni dal dissesto idrogeologico.